ciao buongiorno a tutti oggi volevo fare un video sulle castagne che ultimamente ci sono solo io che le raccolgo quest'anno dalle mie parti sono molto belle e quindi ne ho approfittato per raccoglierle nel frattempo pizzicare notizie di qua e di là per la conservazione e la cucina ecco qua come vedete me li sono messi anche come mi sfondo e basta vi lascio al video e ringrazio come sempre tutti gli iscritti e tutti quelli che mi prestano attenzione ciao grazie alla prossima vi lascio al video grazie a tutti 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 grazie a tutti